Ai microfoni di Settimana Sport del Dogrosso dell'Atletic, oggi avete fatto pari con la capolista e siete andati anche vicini al pareggio. Questa classifica è bugiarda per quello che si è visto oggi in campo. Sì, sono parecchie settimane che comunque stiamo macinando il gioco e sicuramente non meritiamo la classifica che abbiamo. Però penso che questa sia la strada giusta. Ora siamo tornati anche nel nostro campo a quarto ed è sicuramente tutto più facile. Dobbiamo continuare così, macinare, macinare il gioco e non buttarci giù. Ecco, prossimo impegno con Rivasamba, un'altra squadra molto impegnativa perché ha iniziato bene quest'anno e gioca molto bene. Sì, Rivasamba comunque è un allenatore che trasmette anche una mentalità da professionisti e quindi è sicuramente una squadra che ci darà del filo del torcere. Andremo come sempre a cercare di fare la nostra partita. Ecco, quest'anno il fatto di non avere ancora trovato vittorie, il fatto di non avere ancora il campo a disposizione, è un po' pesato sulla squadra. Sì, sicuramente è una squadra che si merita di gioire, però questa è la strada giusta. Non possiamo, si passa solo da qui, dal lavoro settimanale e basta. Grazie mille.